Momenti in cui 6.000 del Palatrieste vedono la terra promessa, Trieste torna in A1! Una città, una squadra, un solo cuore. E questo il titolo della serata celebrativa dedicata alla promozione della Palacanestro Triestina 1. Un successo conquistato con le unghie e con i denti, senza il favore dei pronostici, ribaltando per tre volte il fattore campo, la post-season della Palacanestro Trieste è una di quelle storie che sembrano scritte per diventare una serie Netflix, scrive la società, chissà se già preannunciando velatamente una sorpresa. Una squadra che cambia pelle quando la situazione lo richiede, in grado di conquistare i play-off, con nove vittorie e una sconfitta che centra l'obiettivo della promozione dopo un solo anno di permanenza in A2. E dunque, per concludere la stagione, la Palacanestro Trieste invita tutti i suoi tifosi e tifose, lunedì 17 giugno a partire dalle 18.30 in piazza della Borsa, per l'evento Una città, una squadra, un solo cuore. Un momento d'incontro in cui i ragazzi di coach Jemion Christian, lo staff, la dirigenza, saluteranno i propri sostenitori. Per l'occasione sarà allestito, grazie alla collaborazione con Promo Turismo FWG, un track video in piazza che permetterà a tutti di assistere ai saluti della squadra.